Un weekend all'insegna delle eccellenze del territorio. Si alza il sipario sulla prima edizione di Cioco Senigallia, la rassegna organizzata da confartigianati imprese Ancona Peser Urbino in collaborazione col Comune. Dall'8 al 10 novembre la città di Velluto si trasformerà nella capitale del cioccolato e delle eccellenze del territorio, ospitando maestri cioccolatieri e le loro specialità. Quest'anno porteremo in piazza 10 pasticcerie artigianali esclusivamente del territorio che lavorano d'eccellenza con un'attenzione particolare alle materie prime e cerchiamo di fare educazione al consumatore finale. Ci distinguiamo rispetto alle altre iniziative perché delle vere pasticcerie che tutto l'anno lavorano, innovano e producono, si mettono a disposizione dei consumatori e dei clienti per far percepire la qualità del gusto. Scopo dell'iniziativa è catturare l'interesse dei senigallesi e di chi arriva da fuori, destagionalizzando sempre di più il turismo con progetti che abbiano una valenza economica e un alto valore qualitativo. Stiamo andando in una direzione insieme all'amministrazione comunale e insieme a tutte le attività per muovere il territorio e farlo conoscere proprio in un periodo che non è quello clou. È un evento molto importante che porterà sicuramente molte persone qui a Senigallia, perlomeno ci auguriamo. Permette anche di poter avere ancora una volta una certa visibilità e entra in scia con quello che poi è tutta la stagione invernale.